Non è invece riuscito ad emergere definitivamente il Sorrento che vediamo nel match tutto d'attacco disputato contro la Cavese. I rossoneri di Canè hanno invocato in vano due calci di rigore, ma va anche detto che gli ospiti hanno impostato un'ottima gara di contenimento. Il pubblico alla fine se l'è presa con l'arbitro che è espulso al 72esimo Duranti e da Cardi. Vittima di un grave incidente di gioco è rimasto del centroavanti a Puzzo, per lui purtroppo il campionato è finito. Per concludere da sottolineare il successo del Brindisi sulla Ternana-Fanadino di Coda ed il pareggio di Casarano, un risultato prezioso.